La raccolta viene eseguita manualmente passando in mezzo alle file con delle cassettine a mano o con dei carrellini sui quali apponiamo le cassette a seconda del periodo e della carità dei frutti. Adesso che ce ne sono pochi è sufficiente passare con una cassettina. La difficoltà maggiore quando si raccoglie la fragola è il distacco perché è un prodotto delicatissimo e molto deperibile quindi la difficoltà più grande è proprio staccarla senza ammaccarla e la tecnica è un movimento veloce, un colpo di polso che la stacca senza lasciare alcuna impronta. Curiamo molto la disposizione regolare ordinata in modo da far risaltare il colore rosso acceso delle fragole. Ci piace raccogliere a maturazione elevata quindi sempre un punto indietro come colorazione perché devono durare alcuni giorni dopo lo stacco.